Venite a trovarci perché siamo una cantina nuova, quindi veniteci a conoscere, più prodotti moderni, siamo tutti giovani quindi abbiamo voglia di farci conoscere nel territorio e anche fuori ovviamente. Abbiamo una bella cantina moderna, piena di tecnologia e quindi veniteci a trovare, vi faremo scoprire tutti i nostri prodotti e la nostra cantina.